Toleranza zero contro lo sfruttamento, un impegno emerso dal tavolo istituzionale alla Pisana promosso dal presidente Rocca dopo la morte di Satnam Singh. Un confronto con gli assessori all'agricoltura e al lavoro, il commissario per la lotta, il caporalato appena nominato Falco, la vice prefetta di Latina Perna, i sindaci del Pontino, le associazioni e i sindacati. Noi non vogliamo rimanere fermi, non vogliamo rimanere a guardare e sono sicuro che questa vicenda ha reso chiaro a tutti l'urgenza di varare nuove misure. Illustrate le misure messe in campo dalla regione contro il caporalato, da domani 27 nuovi tecnici spresali inizieranno il lavoro di ispettori, due nuovi avvisi pubblici per l'assunzione di nove tecnici per l'Asla di Latina e altrettanti per Roma 6. Saranno investiti 4 milioni di euro dal Fondo Inail e dal Fondo Sociale Europeo, un tavolo che rimane operativo. E il pensiero va alla vedova di Satnam, Soni, che oggi ha riabbracciato la sorella Ramandip, arrivata a Fiumicino nel pomeriggio e accompagnata a Latina dai carabinieri. Un incontro che ha raccontato la sindaca di Latina, Matilde Celentano, che ha voluto salutarle. Domani saranno trasferite in un'altra città, ha spiegato la prima cittadina, per motivi di protezione. In queste ore si sta decidendo la data dei funerali. Proseguono le mobilitazioni per ricordare le vittime, Satnam e tutti gli altri che hanno perso la vita e contro il caporalato. A Viterbo si tinna in piazza della Repubblica, promosso dalla rete antitratta con tante associazioni. Siamo impegnati da anni, anche in questo territorio, per contrastare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo. Il 6 a Latina tornerà a manifestare la CGL.